Dibattito sulla campagna vaccinale, la discussione in Consiglio regionale sulle somministrazioni anti-Covid in atto in Toscana. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio, puntata dedicata alla seduta di Consiglio monotematica sulla campagna vaccinale in Toscana. Focalizzeremo la nostra attenzione sul dibattito successivo alla comunicazione dell'assessore alla salute Simone Bezzini. L'assessore ha detto in Consiglio che il principio di fondo è quello di non sprecare e non ritardare alcune dose. È stata avviata una campagna informativa multicanale, ha detto Bezzini, per garantire massima efficienza e volumi giornalieri anche di 20.000-25.000 somministrazioni al giorno. Allora, sentiamo i commenti delle forze politiche. Iniziamo prima dal Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione e con la risoluzione collegata chiediamo al Governo di di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi, molto molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti, noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie come stiamo facendo fino ad ora più fragili, gli anziani, l'RSA, chi lavora in prima linea, i medici, insomma la sfida vaccinale è la sfida dei prossimi mesi, ma non è solo una sfida per l'oggi, è una sfida per il domani, perché chi per primo riuscirà a vaccinare la gran parte della popolazione, per primo potrà tornare ad investire nell'economia, ad investire nell'attirare impresa, ad investire nell'attirare turismo, questa è la sfida del futuro, dopo la crisi e l'emergenza sanitaria che è ancora forte in queste ore, quindi consentitemi un appello ai cittadini e alle cittadine della Toscana, il virus c'è, è forte, ci sono le varianti, noi faremo tutto quello che possiamo fare, ma voi rispettate le regole, per favore mantenete le distanze, la mascherina, lavatevi le mani, non è finita, non è finita, capiamo che è pesante per tutti, davvero, tanto, specialmente per chi vive da solo, per chi è in condizioni più di difficoltà, però ci aspettano ancora qualche altro mese di sacrifici, ne avete fatti già tanti, è quasi un anno, il primo caso è stato il 21 di febbraio in Italia, è passato più di un anno e ci sarà ancora qualche mese da camminare insieme, noi lavoreremo perché la vaccinazione vada ancora più veloce, siamo pronti per la vaccinazione di massa, i medici di base hanno iniziato a testare il modello in cui vaccinare sulle persone over 80, ci sarà davanti a noi una sfida ancora complessa, ma ce la metteremo tutta. E adesso passiamo ai rappresentanti dei gruppi consigliari, ad iniziare da Stefano Scaramelli di Italia Viva, ovviamente maggioranza e opposizione e ci saranno anche polemiche. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260 mila persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico, eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che avevamo avanzato, così come volontari del 118, la protezione civile, ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti malati cronici, malati oncologici, queste persone che vivono nelle condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare, ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima, con loro, che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili. Ma intanto dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una regione deve avere, deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale e la Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i sotto i spoke organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca e abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo, abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga. Abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per i disabili che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora anche alla luce di quelle che sono le novità rispetto all'utilizzo del vaccino AstraZeneca che sono arrivate con la circolare di ieri, che si vaccinano fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili, così come definite dal piano nazionale sono i gravi disabili, sono gli oncologici e tutte le altre categorie che se colpite dal virus possono subire effetti molto gravi. E infine abbiamo appoggiato la strategia del Presidente rispetto all'acquisizione di nuovi vaccini. La regione non fa proclami come fanno altre regioni sull'acquisto a destra e manca in solitaria di vaccini, ma sostiene la necessità sui tavoli nazionali e quelli europei di aumentare la quantità di vaccini disponibili e la produzione a livello nazionale e anche regionale di vaccini e anche degli altri farmaci innovativi. Abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. È stato anche contestato il fatto che qualche altro Presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettate, aspettato che venga dall'alto. Per cui questa comunicazione sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. I criteri così tanto entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali. Io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione, aumentare i vaccinatori perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno saltato di due ore la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Credo che in una situazione di emergenza come questa le incombenze burocratiche devono essere assolutamente bypassate e superate se no non si va da nessuna parte. Dal 23 di dicembre per avere una comunicazione sui vaccini l'opposizione è stata costretta a ricorrere alla raccolta firme e a indire il consiglio straordinario. L'assessore Bezzini fino all'ultimo giorno, venerdì scorso, ci ha chiesto di avere pazienza sabato e domenica perché avrebbe passato il fine settimana a preparare la comunicazione da darci oggi in aula. Ieri mattina ci ha dato un documento fatto da 189 pagine dove c'è scritto come si aprono i flaconi dei vaccini della Pfizer, i bugiardini dei vaccini, come si conserva in frigorifero. Bene, tutte notizie interessantissime, ma noi avremmo voluto sapere altro. Avremmo voluto sapere come mai in Regione Toscana sono stati fatti 250.000 vaccini, quando ne servivano 280.000 solo per immunizzare la prima fascia. Avremmo voluto avere delle risposte dettagliate sul piano vaccinale, su come si proseguirà nel piano vaccinale, se ci sarà o meno la volontà della Regione Toscana di andare in autonomia alla gestione dei vaccini, se c'è la volontà di violare i brevetti delle multinazionali del vaccino che oggi non ci forniscono un numero sufficiente di dosi. Se la Regione Toscana vorrà percorrere quella strada che altre Regioni hanno detto di fare, ovvero di riuscire a approvvigionarsi in maniera autonoma dei vaccini. Nessuna risposta, questo dimostra che l'assessore Bezzini, una volta ancora di più, è assolutamente inadeguato a svolgere il ruolo di assessore alla sanità in un periodo delicato come questo. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. La domanda è possiamo aspettare tre anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile, per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità perché quei brevetti servono a salvare in un caso le vite e dall'altro anche la nostra economia. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al Presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno, guardate per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000, pensate di quanto siamo indietro, ecco la Toscana e i Toscani non possono più aspettare. Noi abbiamo letto la comunicazione della Giunta che ci è stata inviata ieri, una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali, ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del Commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio, insomma tante cose rimangono senza risposta come ho fatto presente in Consiglio regionale. Per cui a nostro parere la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva che non si capisce come funzioneranno perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono alcune, solo alcune delle criticità che abbiamo trovato nella relazione, abbiamo fatto presente e spero che nella replica l'assessore ci dia le risposte. Il fatto sta che oggi principalmente mancano i vaccini. Se la regione toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti in modo da poter utilizzare quella clausola che permette in caso di pandemia e di emergenza sanitaria di fabbricare i vaccini in deroga ai brevetti forse potremmo prevedere che in un futuro si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità perché ricordo che l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre ma dura solo qualche mese per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue. Chiudiamo la serie delle nostre interviste con Eugenio Gianni, presidente della regione toscana. Devo dire che è stata una seduta interessante perché ha avuto il vantaggio di una sollecitazione, di un confronto da parte di tutti, opposizioni, maggioranza, su una sfida che è la vera sfida contro la pandemia perché oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi direttamente o indirettamente a una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500 perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale. Vaccini, 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 ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa e comunque la Toscana con il suo più di 90% riesce oggi a offrire un vaccino a 260.000 persone nella nostra regione. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è tra sette giorni.